Sì, questo è un po' di risposta, poteva. Cosa è la vita, c'è il suo stile qui? Eh, non è una cosa, non è una cosa, non è una cosa, non è una cosa. Non è una cosa, non è una cosa, non è una cosa. Non si dice, non è una cosa, non è una cosa. E' un bambino, un bambino, un bambino. Mi prego, potrei che non avete il contegno che mi ha dimostrato. Consigliere un po' con... ... 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 E' un po' che è il secondo solo. Così è che lei che ci ha citato a risultare tante regole, ha chiuso a pensare, oltre che si fa la politica, le ha chiuso a mantenere ancora una volta un continuo che so che si appartiene come persona e come musica. Lei va per fare un'epascia di media a fare un po' di risultato, e non aveva un po' di risultato. Perché? Se siamo in risultato, questa è una cosa. C'è già un po' di risultato. Noi, se non fosse così, saremo loro che vengono a casa. Noi siamo in casa, quindi si è in posto e si è in casa. Siamo un gruppo, in questo momento c'è la scelta, si dovrà andare un buone perché i passi indietro la loro scelta. fanno parte di nessuno, no? Ma vanno, vanno avanti da di. L'unità diceva che qualche persona che non si fa, che la loro scelta, vuole aiutarti, fa il mio libro e non si fa. Grazie. Grazie. Grazie consiglio di Morato. No, assolutamente no. No, non lo metete. No, non lo metete. 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 No, non lo metete. Non lo metete. No, se ti metete. Non lo metete a me, è il partito persona che hanno unaortunità in Kiev. Non lo metete. Non è quello che Vorrei a venir. Non lo metete. Non lo metete a Mele Adevole. Non lo metete a me. Non era la parola della Regia. Nono, Господimi Eglise e il Consiglio di Morato. Io ho fatto una felice, che dopo questi temi che oggi non vengono a dire, oggi non vengono, ma oggi non vengono a dire, adesso, scusate, ho fatto una felice, e sono soli di conto in giro che in giro si avmiene degnero di racconto. Ho detto che dopo questa domanda, questa attrazione, quando guardo le commissioni, andate bene, trovate la maggioranza, però ho detto io che mi dovete ripetere e ti faccio io una promozione a te, sento il senso a me di valutare certe cose, noi, sette metti fa, otto metti fa, stavamo in maggioranza, noi abbiamo fatto l'età, avevamo ragazzi che si dicevano in contatto, noi abbiamo un coraggio, a me di valutare certe cose, noi abbiamo fatto il senso a me di valutare certe cose, da io e tal, non Гerdania ma, dal senso a te,viro